Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi scopriremo come è fatto e come si guida il camion-treno dei pompieri. Il suo vero nome è Veicolo Bimodale, eh sì perché ha proprio questa doppia modalità di funzionamento, strada e ferrovia. Ma adesso che ce l'abbiamo qui, bello rosso, tutto per noi, andiamo a vedere più da vicino come è fatto e in cosa differisce da un normale e volgarissimo camion. Beh intanto lui è allestito, sviluppato, ingegnerizzato e costruito dalla BAI. Eccolo qui che lo scrivono con orgoglio, tutto italiano. Eh sì perché questa è la Brescia Antincendi International, un'azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di veicoli antincendio e spesso i nostri vigili del fuoco hanno i loro mezzi. Cosa ha fatto la BAI? Beh qui una preparazione molto molto importante che va a snaturare completamente quello che sarebbe un classico camion. La base meccanica è Mercedes, indubbiamente lo capiamo dalla stella piccolina che mettono i tedeschi davanti. Mercedes Arocs però è rimasto veramente poco del mezzo originale perché alla BAI modificano, pensate, addirittura la cabina. Il mezzo sostanzialmente originale rimane soltanto fino a qua. Da qui in poi è stato completamente riprogettato dall'azienda italiana che ha una partnership proprio con Mercedes che gli permette di modificare addirittura le cabine, quindi aggiungono una porzione posteriore con altri quattro posti in modo che la squadra dei vigili del fuoco possa operare al completo. Per gli appassionati di simbologia qui sono disseminati un po' di indizi dappertutto. Intanto 1832, qui ci aiuta la Mercedes con la sua nomenclatura. Cosa significa? Che abbiamo un mezzo da 18 tonnellate, 32 la potenza, 320 cavalli erogati dal motore Mercedes. Sei cilindri in linea. Come sempre però quando si tratta di mezzi speciali, i miei preferiti, è l'ossatura, lo scheletro. Il mezzo che dona l'architettura poi al veicolo è la cosa meno interessante. Quello che conta è tutta la preparazione e qui di preparazione ce n'è giusto un filo. Ok, eccoci a bordo. Confesso di essere un po' in ansia. Di solito davanti a me ho dei bei nastri d'asfalto. Qui vedo solo la massicciata, i sassi e due binari. Nei mezzi speciali ne abbiamo vissute di tutti i colori nelle puntate, ma la guida in ferrovia mi mancava. Quindi cerchiamo di non fare danni e vediamo se sono stato un buon allievo e sono imparato a guidare questo camion, treno, dei vigili del fuoco. Allora, davanti a me ho un pannello digitale. Tutto parte da qui. Lo accendo. Eccolo. E qui compare lo schema che mi permette di monitorare il sistema per la marcia ferroviaria. Prima cosa da fare, disinserire il freno di parcheggio. Eccolo qua. Accendere le luci per la marcia ferroviaria. Sono come un treno in questo frangente. E per non essere un pesce fuor d'acqua devo spegnere le luci del camion tradizionale, per non confondere eventuali altri treni che mi vedono, e accendere le luci per la marcia ferroviaria. Rosse dietro, bianche davanti. Da questo pannello vedo come sono messi i carrelli e monitoro la situazione dell'impianto idraulico che permette la gestione di questi carrelli. È tutto ok, ma vedo che ho ancora aria nell'impianto frenante pneumatico. E questo non va bene, la devo svuotare. E quindi lo faccio da questo joystick. Rilascio freno ferroviario, altrimenti non ci muoveremmo. Provo. Avete sentito che ha sfiatato, ha sfrenato, come si dice in gergo, e qui mi dà zero. E quindi sono pronto per mettere giù i miei carrelli e trasformare questo camion in un treno. Confesso che sono particolarmente emozionato. Si fa tutto attraverso questo joystick. Se mi vedete un po' abbarbicato sul volante, è normale. Il sedile non è regolabile, come sulle nostre amate automobiline, perché dietro, vedete, ho l'autoprotettore, c'è lo spazio per la bombola del vigile del fuoco, quindi ho il volante un po' verso di me. Diciamo che alla guida ci vorrà sempre qualcuno un po' smilzo. Col pulsante 1 do il via libera ad azionare il ponte posteriore. Si attiva una telecamera che mi fa vedere cosa sta facendo il ponte posteriore. Qui bisogna essere dei maghi di precisione per mettere la ruota ferrata sulla rotaia. Il ponte, lo vedete, si sta abbassando grazie a dei pistoni idraulici. Ho sentito che si è appoggiato al terreno e ora sto praticamente facendo un wheelie, diremmo, nelle moto. Mi sto incuneando davanti perché mi sta tirando su. Mi sta tirando su. Sono inimpennata al contrario. Ecco, io dalla telecamera vedo che ho tirato giù il primo ponte. Uno è andato. Il sistema mi dice che sono stato bravo. Pallini verdi. Il primo ponte è agganciato alla rotaia. Ora però manca il secondo. Quindi pigio due. Lo seleziono. Si attiva la telecamera. Questa volta sul ponte anteriore. E provo a tirarlo giù. Guardate. E stiamo tirando su con la potenza della oliodinamica 18 tonnellate di mezzo e ci stiamo alzando di 38 centimetri. È impressionante. Vi assicuro che guidare un mezzo pesante è già abbastanza incredibile perché sei in altissimo. Qui veramente sfioriamo quasi le nuvole. Ma adesso che il mio Mercedes-Buy si è trasformato da camion in treno questa metamorfosi da bruco a farfalla io sono pronto a diventare un macchinista e quindi a guidare su rotaia joystick ci dimentichiamo del volante ci dimentichiamo dei pedali non siamo più su un camion siamo su un vero e proprio treno e quindi provo a dare gas giù tutto o meglio giù poco perché mi hanno detto di dare poco gas all'inizio e vediamo se il miracolo avviene. Oddio si sta muovendo e stiamo procedendo con un camion su su rotaia ce la sto facendo è una sensazione ragazzi stranissima noi siamo abituati ad avere il controllo della direzionalità nelle nostre mani qui no è tutto affidato ai binari e per chi non ha mai guidato su strada ferrata come sottoscritto vi assicuro che è una sensazione un po' difficile da digerire soprattutto in questi primi metri devo stare attento procedere lentamente soprattutto nella zona degli scambi però come potete vedere ce la sto facendo sto andando piuttosto piano perché qui siamo nelle zone limitrofe di una stazione che ci ha dato il permesso di fare questo test in esclusiva ma questo veicolo dovete pensare che può viaggiare su rotaia quindi come in questo caso fino a una velocità massima di 40 km orari in realtà poi in fase di sviluppo una tecnologia simile permette anche di viaggiare a velocità superiori fino a 70 km orari ma come è possibile questa magia come fa a essere due mezzi in uno beh in questo caso il motore diesel va ad alimentare una presa di forza che a sua volta va a sfamare due pompe idrauliche una si occupa dei servizi del sistema ferroviario cosa vuol dire beh dell'energia idraulica che serve appunto ai carrelli per distendersi alzarsi e trasformare il camion in treno l'altra invece è la pompa di trasmissione cioè quella che attraverso appunto un motore idraulico permette alle ruote di ferro di girare e di dare motricità anche sui binari i motori idraulici sono due e sono piazzati sull'asse anteriore il rodigio ferroviario ho imparato che si chiama così proprio nel termine tecnico scientifico per frenare mi basta lasciare il joystick vedete il motore idraulico se io tolgo la mano fa calare la pressione dell'olio nel motore e quindi questo già mi permette di frenare se poi proprio dovessi aver bisogno di una frenata un po' più robusta c'è comunque un freno pneumatico supplementare che comando da questo joystick eccolo qua mi ha fermato la BAI ha sviluppato 29 di questi mezzi che andranno alle stazioni dei vigili del fuoco in prossimità di tunnel ferroviari con una lunghezza superiore a 5 km in questi casi se ci dovesse essere un incidente all'interno del tunnel i pompieri arrivano tirano giù i carrelli trasformano il camion in un treno e si buttano all'interno del tunnel ovviamente ho un treno bidirezionale cioè mi basta portare la mia cloche il mio joystick indietro e il treno inizia a procedere in marcia contraria in più ho anche guardate una meraviglia di retrocamera come sull'automobili mi permette di verificare quello che succede dietro al mezzo un mezzo di soccorso quindi molto speciale per prestare aiuto nei tunnel ferroviari al buio in condizioni di scarsa visibilità dove sarebbe difficile raggiungere il teatro operativo con dei mezzi normali un veicolo praticamente inarrestabile perché dove finisce la strada inizia la massicciata iniziano i binari lui può comunque avanzare proprio come stiamo facendo adesso proprio perché è un mezzo pensato per operare in un ambiente così ostile buio dove magari l'ossigeno scarseggia pervaso sicuramente quasi sicuramente dal fumo magari anche dalle fiamme questo camion dei pompieri non è come tutti gli altri ma ha una dotazione tecnica assurda che io ora dimostro prima di tutto una termocamera frontale ecco qui il monitor che vede anche la nostra Camilla che sta facendo le riprese a cosa serve? beh io sto entrando in un tunnel buio pieno di fumo magari con le fiamme beh qui riesco a vedere se ci sono fonti di calore quindi appunto fiamme anche in condizioni di scarsa scarsissima visibilità ne ho due di monitor uno è replicato anche per il passeggero non solo per chi sta guidando ma non solo il camion treno dei pompieri è ancora più avanzato perché lui è in grado di proteggersi dal fuoco dal calore con un vero e proprio scudo d'acqua un po' come se fosse un super saiyan di dragon ball ma io ho la facoltà di usarlo e di farvelo vedere e quindi non mi lascio scappare questa grande occasione si comanda da questo display vedete ho due sistemi di protezione uno getta acqua sulle ruote sulle gomme per proteggerle dal calore pensate a quali temperature possono svilupparsi in un tunnel dove c'è un incidente e magari ci sono delle fiamme ma non solo F9 acqua tutto intorno alla cabina per proteggere gli occupanti i vigili del fuoco che si stanno lanciando nel tunnel il camion by si è trasformato in super saiyan su rotaia è protetto dall'acqua io posso gettarmi nel tunnel nel fumo con la termocamera addirittura vicino alle fiamme proteggendo il camion gli occupanti quindi i vigili del fuoco e anche i miei preziosissimi pneumatici pazzesco ho una pompa elettrica dedicata per portare acqua qui tutto intorno e sulle ruote e quindi non devo attivare la presa di forza ma ovviamente non è finita qui perché il camiontreno ha un altro asso nella sua manica che è un cannone d'acqua dedicato monitor per usare un termine tecnico fino a 800 litri al minuto di portata in alta pressione in bassa pressione diventano 400 io ovviamente lo posso usare e userò l'alta pressione Camilla preparati al getto d'acqua più potente mai visto ho avvisato anche la nostra cameraman in modo da non lavarla eccessivamente per azionare l'acqua ovviamente devo agire su un'altra presa di forza non più quella del sistema ferroviario ma quella dedicata alla pompa per attivarla faccio tutto da questo display schiaccio F1 in questo caso attivo la presa di forza il motore Mercedes sale di giri perché sta facendo un lavoro aggiuntivo e come vedete l'impianto idraulico della pompa è andato in pressione 2,5 bar io vi ho fatto vedere questa operazione come se fosse un solista che guida e fa andare l'acqua nella realtà non funziona così lo capite dalla disposizione dei comandi chi è seduto qui guida e si occupa di condurre il mezzo sarà invece il compagno di squadra sul sedile del passeggero a dedicarsi all'azionamento del monitor e alla gestione del fronte di fiamma e con un semplice gesto parto e mi trasformo nel dio dei mari via Nettuno F6 ah 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 ecco il cannone è partito io ho questo joystick e da qui posso gestire il getto e indirizzarlo là dove mi serve posso farlo anche in movimento io posso comandare tutto da qui perché perché non devo scendere nel tunnel probabilmente c'è del fumo ci sono delle fiamme bisogna garantire la sicurezza ai vigili del fuoco quindi tutto è remotato qui attivo la presa di forza senza scendere dal mezzo e anche il cannone si comanda da questo joystick e quindi io adesso mi sbizzarrisco i colori una leggenda anche qui ci aiutano quello blu mi permette di scegliere tra alta e bassa pressione high low e poi ancora gli altri due colori permettono di modulare il getto quindi un getto più stretto più direzionale diciamo o invece uno più aperto più frastagliato a seconda del fronte di fiamma che devo affrontare e poi l'arancione che mi permette di accendere dei fari supplementari questi indicatori mi dicono in che posizione è messa la paper si dice un po' così volgarmente quindi in che posizione è messo il cannone siamo su un veicolo di emergenza quindi come sugli aerei tutti i sistemi sono ridondanti cioè se ho un'avaria non è che non posso andare a mettere in salvo delle persone che hanno bisogno di aiuto devo procedere quindi se questi monitor dovessero avere dei problemi non c'è problema posso bypassarli totalmente da questo pannello più diciamo old school manuale ma riesco comunque ad avere a disposizione tutti i sistemi del mio cagno treno buy ma quando mi ricapiterà di bagnare un nostro videomaker 800 litri al minuto beh mai e quindi io adesso mi sbizzarrisco con la mia paperotta F6 alta pressione eccolo qui ho preso Camilla davvero pensate che ho una gittata del mio cannone fino a 45 50 metri ovviamente adesso sto portando su di giri il motore Mercedes do più pressione alla presa di forza e guardate fino a dove sto riuscendo ad arrivare pazzesco questo mi mancava ovviamente alla massima portata voi capite che il serbatoio da 2400 litri rischia di vuotarsi anche in pochi minuti e quindi come fa il camion nel tunnel se finisce l'acqua basta non aiuta più chi ha bisogno non spegne più l'incendio ovviamente no perché in caso di intervento un mezzo come questo è seguito da altri dietro da autobotti cariche d'acqua pronte a rifornirlo in maniera continua la bike qui progetta tutto dal foglio bianco un vero e proprio lavoro direi artigianale un po' come quando i costruttori di supercar fanno delle one off beh qui invece l'artigianalità e la progettazione viene applicata a un veicolo di emergenza eh sì perché qui gli ingegneri italiani hanno progettato tutta questa furgonatura la scocca del mezzo in una maniera molto intelligente molto innovativa e anche di gran qualità come potete vedere tutto il telaio è realizzato attraverso un materiale nobile leggero che non arrugginisce l'alluminio questi listelli di alluminio si compongono tra di loro in maniera completamente personalizzabile poi dal cliente dal committente e si riesce a realizzare un po' tutto quello che si vuole attraverso questi moduli un po' come facevamo noi almeno io quando ero bambino con il meccano o con il lego vantaggi una configurazione della scocca completamente personalizzabile durabilità e in caso di incidente del mezzo si può andare a sostituire soltanto la parte compromessa e non tutta la furgonatura beh insomma un vantaggio mica da ridere anche perché credo che costi non proprio pochissimo rispetto a un APS tradizionale un'autopompa serbatoio il camion dei pompieri come lo chiamiamo noi che vi ho raccontato in un'altra puntata beh qui abbiamo più o meno lo stesso allestimento ma andrò a raccontarvi più che altro quali sono le particolarità che lo differenziano da un camion dei pompieri normale qui c'è una bella pedana per rissarsi sopra così anche quelli non molto alti come me non hanno problemi in questo primo vano qual è la differenza principale rispetto a un camion dei pompieri normale beh lo vedete lì ci sono quattro bombole di aria respirabile aggiuntive direttamente collegate alla cabina eh sì perché dovendo operare in ambienti chiusi gallerie magari per vasi dal fumo qui c'è bisogno che i vigili del fuoco abbiano più aria pulita possibile in modo da consumare meno quella che si portano addosso con l'autoprotettore beh qui troviamo un po' gli attrezzi del mestiere coni mazza ferrata accetta un kit di pronto soccorso che non guasta mai i serbatoi diesel e ad blu perché ovviamente abbiamo un motore euro 6 di ultima generazione ma apriamo questa nuova tapparella anche qui classici strumenti del vigile del fuoco italiano quindi moto sega e moto troncatrice quello che però è interessante è che qui rispetto ad altri camion dei pompieri vediamo qualcosa di molto particolare all'interno che è lui lo vado a toccare eccolo qui che è il serbatoio è la pancia della balena il serbatoio dell'acqua del nostro camion quanta ce ne sta beh sicuramente più che nella vostra borraccia 2400 litri un serbatoio realizzato in vetroresina un materiale comunque resistente ma molto più leggero del polipropilene che viene usato in altri casi e qui beh qui siamo nel paradiso del pompiere entriamo proprio nel vivo pedana così riesco a vedere le cose un po' più da vicino manichette di tutti i tipi 70 45 38 e poi lance anche qua per ogni gusto lance classiche o anche queste guardate come sono particolari per lanciare liquido schiumogeno a media espansione qui sotto altre cose che mi hanno incuriosito intanto da qui si carica la pancia della balena il nostro cisternone da 2400 litri snodi e vari raccordi questo curioso un filtro per quando si usa l'aspirazione dell'acqua da una fonte esterna sapete che i vigili del fuoco possono usare o il serbatoio di bordo o anche prendere acqua per esempio da un fiume o da un lago e poi questa fondamentale la pompa del sistema di autoprotezione lo scudo di dragon ball di cui vi ho parlato prima e qui siamo arrivati sul retro intanto vedete che non c'è la targa perché il veicolo è nuovo deve ancora essere consegnato e qui un altro mondo per tutti gli appassionati di vigili del fuoco e so che siete tantissimi ma anche per gli appassionati di idraulica perché qui c'è la pompa principale del nostro camion treno dei pompieri una pompa molto molto potente capace di erogare fino a 2000 litri minuto vuol dire che alla massima potenza praticamente in un minuto e mezzo avete finito il nostro serbatoione e poi interessante perché ci sono i colori che come sempre sui camion dei pompieri non sono a caso ma sono una leggenda ci aiutano a capire di cosa si occupa ogni componente blu dove arriva l'acqua succhiata da una fonte esterna giallo dove passa il liquido schiumogeno verde no lo sapete due colori primari blu e giallo formano il verde anche qui ci aiuta a capire che da qui uscirà l'acqua combinata con l'aria e poi il liquido schiumogeno manometri di tutti i tipi per l'alta pressione se si usa in alta pressione la pompa eroga circa 350 litri minuto media pressione massima potenza 2000 litri minuto e poi il vuoto manometro un indicatore che ci permette di capire la capacità della pompa di creare una depressione e quindi di succhiare acqua da un bacino un fiume un fossato e comunque una fonte esterna e poi il naspo quindi senza collegare manichette abbiamo già subito pronta qui la pistola 60 metri se l'incendio da spegnere è vicino al mezzo possiamo prendere lui ed è subito pronto trattandosi di un mezzo nuovo di pacca manco c'è la targa e qui è ancora più evoluto e quindi pensate che per governare tutta la pompa c'è il solito pannello di controllo che però permette anche di gestire direttamente da qui senza agire diciamo tramite leve idrauliche manuali anche l'utilizzo del liquido schiumogeno e poi un'altra curiosità vedete questo occhiello questo gancio messo qui un po' misteriosamente invece ovviamente ha una precisa funzione su questo mezzo speciale quando il vigile del fuoco deve stare qui e procedere sui binari sulla strada ferrata beh qui attraverso il cinturone può ancorarsi per viaggiare in sicurezza e poi guardate qua una presa da 230 volt quando il veicolo e il rimessaggio è parcheggiato nella caserma dei vigili del fuoco qui viene alimentato e questo permette al veicolo di essere pronto all'uso di partire subito intanto con il motore non a freddo e con tutti i sistemi alimentati ma proseguiamo la nostra visita guidata nei meandri di questo mezzo speciale scopriamo cosa c'è qui accessori fondamentali per il soccorso cesoia divaricatore martinetti quindi cilindri a espansione questo motore a scoppio alimenta un circuito che si crea attraverso questi tubi un circuito ovviamente idraulico attraverso cui questi accessori fondamentali per il soccorso possono essere adoperati per cosa si usano? beh per estricare persone rimaste incastrate in un veicolo in un'automobile per esempio tranciano i montanti e aprono le nostre amate automobiline attraverso la potenza idraulica come delle scatolette di tonno ma vediamo cosa c'è qui un po' di estintori di tutti i tipi che lo diciamo sempre non guastano mai moto ventilatore per spazzare via il vento e creare visibilità durante l'intervento e poi qui ancora vediamo un po' di bombole aggiuntive aria respirabile sempre quindi per i pompieri vedete quante ce ne sono su questo mezzo vi fa capire la specificità di questo veicolo di soccorso deve operare in ambienti chiusi spesso per vasi da fumo e poi queste altre due bombole ad aria in pressione servono ad adoperare i famosissimi cuscini di sollevamento capaci di creare spazio e sollevare anche pesi molto molto importanti di diverse tonnellate a seconda delle dimensioni e poi qui un gruppo elettrogeno che si sa in caso di emergenza c'è sempre bisogno di un po' di energia beh lui non guasta mai e poi della Honda un mezzo molto speciale che ovviamente ha un prezzo molto speciale pensate che l'allestimento ingegnerizzato progettato e costruito dalla BAI è così sofisticato che porta il prezzo all'incirca attorno alle 500.000 euro quindi sto guidando mezzo milione di mezzo speciale e bisogna fare molta attenzione e mentre mi godo il mio tragitto su rotaia beh ve lo devo chiedere a voi è piaciuta questa nuova puntata dedicata ai mezzi speciali e soprattutto cosa vorreste vedere in un ipotetico prossimo episodio se lo volete raccontatemelo come sempre nei commenti qui sotto ciao da Matteo Valenti io mi godo ancora un po' il mio camion treno uso ancora un po' d'acqua e al prossimo video su automoto punto it e al prossimo video